Entro oggi Fratelli d'Italia deve decidere e si profila all'orizzonte un rimpasto di giunta per ricucire rapporti tesi tra il sindaco e Forza Italia, che ha dato l'ennesima out-out dopo una crisi di maggioranza che ha generato molte polemiche e discussioni. Martedì scorso c'è stato finalmente il confronto tra il sindaco Perluigi Biondi e il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio De Matteis, che avrebbe rimesso al centro gli equilibri di giunta, rimasti fuori loro, dopo il cambio di casacca dell'assessore Roberto Tinari. Avendo però due consiglieri possono ambire a un assessorato. Il sindaco più volte si è detto contrario a un rimpasto e ha rimandato la scelta al suo partito ora, togliendosi una patata bollente dalle mani. Forza Italia in questi mesi ha accusato senza mezzi termini il primo cittadino di non voler riascoltare su temi chiavi della città. Ma tassa questa però da dirimere al più presto, perché domani ci sarà un incontro ulteriore con il coordinatore regionale Nazario Pagano. Forza Italia, in assenza di risposte positive, potrebbe decidere anche di uscire dalla maggioranza e questo sarebbe un colpo forte in vista pure delle elezioni regionali all'orizzonte, con una campagna già in corso di fatto. Chi potrebbe fare le spese dell'ennesimo rimpasto è l'assessore Paola Giuliani, che sta alla finestra e che è l'unico assessore tecnico non legato ai partiti politici. Il nuovo assessore, se ci sarà, potrebbe essere donna, ma il consigliere Maria Luisa Ianni, anche lei ex assessore dell'Aggiunta Biondi, avrebbe declinato l'invito per motivi lavorativi e dunque si farebbe sempre più strada al ritorno all'orizzonte, a Palazzo Fibioni, dell'ex assessore Annalisa Di Stefano, che ha un ruolo ora nella segreteria regionale di Forza Italia.